Si è tenuto ieri pomeriggio il primo sopralluogo tecnico per stimare le condizioni del costone roccioso che sovrasta alla SP13, dove solo un paio di giorni fa si sono staccati quattro enormi massi, bloccando l'arteria stradale e rendendo necessaria la chiusura della stessa. Al sopralluogo hanno preso parte un geologo, i tecnici comunali e i consiglieri comunali Ivano Mottula e Angelo Merola. Erano presenti anche il presidente della consulta per la sicurezza Pasquale Accarino e gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal capitano Natale Carotenuto. Oggi è previsto invece un nuovo sopralluogo con due esperti, un geologo e un rocciatore, ma per mettere in sicurezza l'aria bisognerà sganciare i massi pericolanti. La strada dunque per ora resta chiusa. Fortunatamente al momento dell'accaduto non transitavano autovetture nella zona, scongiurando così eventuali incidenti. Ciò considerato anche che la SP13 è un'arteria stradale abbastanza trafficata che dalla località pietrale del comune di Capaccio Pestumo conduce al capoluogo.